Buonasera a tutti e benvenuti a questo momento per tutti quanti noi di festa perché finalmente vengono presentati a noi i restauli di tre opere importantissime della nostra comunità parrocchiale una nello specifico, l'altare di San Salvatore Laorta che risale al 600 e quest'altare è uno dei più belli e dei più antichi della nostra chiesa perché risente di una grande devozione che c'è stata e che c'è nei confronti di San Salvatore da ora, da questo santo spagnolo ma anche se volete francese e soprattutto poi sardo un santo sardo perché lui è morto in Sardegna, è stato circa due anni a Cagliari e quindi lì si è diffuso il culto verso questo santo tamaturgo perché si dice che lui era un miracolo quando non faceva un miracolo e a dire la verità questo miracolo lui l'ha compiuto anche dalla nostra chiesa che è proprio il restauro di questo altare ligno che raffigura San Salvatore non solo assistito dalla Vergine Maria ma soprattutto accompagnato da poveri, ammalati e sofferenti tanti confettesi anticamente ma anche oggi, oggi si è un po' ridotta la devozione però anticamente, forse quando c'era anche l'ospedale qui, tanta gente veniva in questa chiesa per invocare l'aiuto proprio di San Salvatore e noi oggi siamo particolarmente contenti di tutto questo, della nostra comunità in festa perché un'opera d'arte viene riportata al suo splettore non so se è riportata all'antico splendore o addirittura è più bello di prima io questo non lo so, però sicuramente è un'opera bellissima di questo noi ne siamo felicissimi e poi insieme all'altare di San Salvatore su cui ci sono queste due statue che noi siamo abituati a vedere sempre sull'altare San Francesco e San Antonio che ci richiamano l'identità di questa chiesa una chiesa francescana, rimanda alla storia di questa chiesa di questa chiesa, di questa chiesa, di francescani, di zoccolanti a Molfetta, a San Bernardino quando l'Eccellenza fu mandato in questa chiesa diciamo in dialetto, tu devi andare alla Zetland mi sembrava un'altra parolaccia in realtà non è una parolaccia è il termine dialecchale per dire la chiesa di zoccolanti la chiesa di zoccolanti rappresentata da San Francesco e da San Antonio c'è qui tutta una storia su queste due statue storia, vista leggenda però non abbiamo una profondità ciò che è bello invece è proprio la manifestazione da quest'auto e che questa sera viene fatto a noi e allora oggi abbiamo il piacere, l'onore di avere il padrone di casa perché c'è un bambino, l'Eccellenza, che la chiama sempre il signor con la un'acchia dice sempre, dice bene e in realtà voi non siete il padrone di casa siete il padre per questo siete il padrone perché siete il nostro padre il nostro punto di riferimento la nostra guida e quindi noi oggi siamo onorati della sua presenza che è presente non solo nel curare le anime ma anche curare la storia le nostre radici storiche e oggi la sua presenza qui ci inserisce nella tradizione della chiesa quindi grazie per la sua presenza sappiamo che l'abbiamo stampata da un nostro impegno però lei è sempre molto generoso nel dedicarsi a noi prima di rilasciare a lei la parola un saluto carissimo la rivolgo a Don Michela Monosini il quale non solo è stato parlo di questa chiesa e qui ve la conosce molto bene e ha preso anche i lavori di restauro di questa chiesa però qui più che da paroco lui rappresenta soprattutto lui è il direttore dell'ufficio di Occe San dei beni culturali di Arte Sacra quindi lui ti ha dato i permessi per poter poi realizzare tutto questo e quindi grazie per richiedermi la tua amicizia per l'affetto che hai verso questa comunità e poi per aver curato il lavoro di restauro per darci e per curare soprattutto l'aspetto più burocratico e poi ci sono i due nostri restauratori che forse qualcuno conosce Valerio Iaccarino e Giuseppe Zingaro che sono i nostri restauratori chi frequenta di più la comunità li conosce molto bene perché per un certo periodo sono stati sempre qui nel curare con dei minimi particolari questo lavoro quindi grazie anche per la presenza poi loro cureranno la presentazione più tecnica dei lavori anche perché sicuramente siamo tutti curiosi e desiderosi di conoscere anche le varie fasi di questi restauro sia dell'altare, della tela che deve restare San Francesco, San Antonio e del bambinello che San Antonio porta ma e che dire io innanzitutto ringrazio Don Pasquale per l'unito e per l'attenzione e riservatemi in questa sera per me è sempre un gran piacere di tornare in questa comunità e quindi riaffiorano la mente tante ricorte che abbiamo rivissuto insieme pastoralmente questa comunità ma come diceva Don Pasquale anche per i tanti lavori di restauro che abbiamo lotto abbiamo seguito insieme e quindi Don Pasquale nella successione di questa attenzione e di questa sensibilità verso questa chiesa ricca di opere d'arte e di un museo e quindi come da bravo parlo con l'attenzione al recupero alla conservazione e all'attenzione delle opere che sono costruite e quindi è sempre un piacere perché non è da tutti purtroppo avere questa sensibilità oggi si guarda più al nuovo al moderno non dando più la giusta attenzione e il valore alle opere che sono costruite nelle chiese e quindi il ristauro di questa sera deve invitare proprio questa attenzione che la Dio ci sta a tanti anni grazie anche ai Vescovi che l'annuncia e la Piedra quindi anche Monsignor Cornacchia hanno questa attenzione di dare fiducia anche all'ufficio dei veri culturali al Museo di Cesano e quindi da anni seguono un po' i lavori di restauro di manutenzione eccetera delle chiese delle opere che adesso sono contenute e quindi questo lavoro questa attenzione va portata al recupero di tante opere importanti che continuano a vivere a raccontare la storia di veri culture tradizione della nostra diocese e quindi anche i lavori di restauro di questa sera sono un'attestazione di questo di devozione di fede che da secoli è stata vissuta e quindi si continua a tramandare e quindi queste opere continuano a vivere quindi il restauro ci aiuta anche a riscoprirle e a recuperare anche la storia di queste opere e quindi acquisire un po' la conoscenza di questo patrimonio che è molto importante e quindi ringrazio Don Pasquale ma ringrazio anche i restauratori che con attenzione periziano lavorando su questi manufatti recuperandoli restituendoli alla loro antica bellezza ecco dicevo l'ufficio si adopera anche in collaborazione in dialogo con la soprintendenza perché questi lavori sono stati autorizzati non soltanto dall'ufficio ma soprattutto dalla soprintendenza per i derivulturati di Vali che lei è dottorizzare effettivamente questi lavori asseguiti quindi perché i lavori vengono fatti e lo gradati e quindi le regole eseguiti secondo i primi sono gli schemi dei tambi dell'estrata e quindi è questo e poi l'ultima cosa volevo dire che il Sio Diocesano insieme con Diocesi sta curando un progetto finanziato dalla regione che andrà a breve porto proprio per la valutazione la valorizzazione del nostro patrimonio quindi sono 20 siti della nostra 20 enti 20 chiese che sono state scelte le più antiche e le più importanti per il valore storico artistico che sono in questo progetto finanziato dalla regione e quindi proprio questa mattina sono venuti qui amici del museo che è uno dei fotografi per fotografare le opere d'arte che entreranno in questo progetto che consiste in QR code cioè attraverso questo QR code si potrà visitare conoscere approfondire ogni singola opera d'arte custodita visto che la processa di inglese forse il mio inglese non è perfetto però spero abbia capito e non lo so più e quindi attraverso questo con il telefonino si potrà visitare virtualmente anche le opere conoscere ogni singola opera e acquisire notizie su questo e quindi questa è una bella cosa che insomma fa piacere e quindi chiedi le grazie e ora andiamo a provare a Enrico e me grazie grazie però parlare prima a carte coperte non lo so se valga la pena tuttavia tuttavia provo io a dire due piccole parole innanzitutto fa molto piacere vedere qui il nostro patriarca Francesco e l'eterno Francesco quanti anni si è andato qui ventisegna da l'antico testamento al nuovo primo parolo parlo con te perché anche se non è una chiesa nuova tuttavia molte chiese che sono state sedi diciamo di conventi di 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 una vecchia di terza E dunque, come noi possiamo ben confermare e renderci conto, nelle chiese moderne mancano queste belle riccheche che noi vediamo solo nelle chiese antiche. Vediamo nelle chiese antiche appreschi, vediamo tere, dipinti, tatue, ciò che noi non vediamo nelle chiese moderne. Perché? Perché, diciamo, queste opere che noi vediamo all'interno delle chiese antiche, pensate, non sono da catterare, non c'è un centimetro di muro, di stucco. E' tutta da pezzata da quanti, da operati. Perché? Perché, e questo ci comprende, antica verità, chi poteva leggere la Bibbia? Chi capiva? Chi leggeva? E pensate, c'è questa bella definizione, gli storici lo confermano, che questi appreschi, questi quadri, erano definiti la Bibbia dei Bomeri. Ancora prima, pensate, quando siamo appena fuori dell'anno 1000, c'erano i famosi exultati, che vengono da una diocesi, in Cielo a Troia, a Troia. Pensate, ci sono tre, dei tredici, mi pare, i dodici, dunque, exultati, che si trovano nel mondo. Sono dei rotoli dipinti, c'è, diciamo, nel testo sacro, ma soprattutto ci sono dei dipinti, sono dei rotoli che si srodolavano dal pulpito, dovere del pulpito, o dal lambone. E qui c'era la gente, guardava i disegni, guardava questi, diciamo, questi appreschi, eccetera, e sotto con delle brevi didascali. E quindi, come noi facciamo i bambini, che prima diamo l'immagine, poi la scrittura, così facevano gli antichi. Oggi, grazie a Dio, non sappiamo leggere e scrivere, mi pare, no? Però abbiamo anche la fortuna di rivisitare, ecco, queste opere, conservate, realitate, volute, prima di tutto dalla fede, perché erano famiglie benestanti, che di solito commissionavano e realizzavano queste opere. Quindi, prima dalla figlia e poi dalla generosità di tante famiglie, e poi dall'unzeo dei pastori, dei monaci, dei priori, dei padroni, dei mescoli, eccetera, noi ne abbiamo avute queste opere. Però, come noi, di tanto in tanto abbiamo bisogno di un piccolo ritocco, andiamo per un restauratore, si vede qui, grazie a Dio, più o meno riuscito, questo restauro, ecco così, perché gli scherzi, queste opere hanno bisogno di una continua manutenzione. E quindi, noi diciamo, grazie anche, non so che siano, ma certamente ci sono, i benefattori che hanno reso possibile questo lavoro del restauro. Sono spiegati che questo significa, noi possiamo fare tante opere di bene, ma questa è un'opera di eccellente carità, che noi facciamo ai posti, a quelli che verranno dopo di noi, perché potranno attraverso le cose che vediamo, amare colui che i nostri occhi non vedono, ma che il nostro cuore vede. Grazie a voi, carissimi, e ben volentieri ascoltiamo qualche breve commento a questo lavoro. Non la pagino nulla, perché non c'è un altro impegno. Grazie a voi. La parrocchia è adeguata, come una parrocchia, perché poi era difficile passare da una chiesa, soprattutto di carattere emozionale, a una parrocchia, e lui in questo è stato veramente costruttore in tutti i sensi, di comunità e anche di pietra. E poi Cerenza lì diceva che c'è questa grande forma di carità verso la comunità cristiana, quella di donare qualcosa di proprio alla chiesa, ma non tanto alla chiesa, ma soprattutto ai fedeli di oggi e di domani. Io per questo motivo vorrei proprio ringraziare una persona che ha reso possibile questi lavori di restauro. E questo è il miracolo che ha fatto San Salvatore, perché non avremmo mai avuto la possibilità di poter fare un restauro del genere. Certo i restauratori sono stati bravi perché hanno tirato fino, almeno ne abbiamo tirati fino all'osso, fino al collo per così dire. Sono stati bravi, però sono lavori molto costosi questi. E quindi io ringrazio la signora Tonia Altamura per questo dono che mi ha voluto fare a memoria del suo e nostro Pietro. Perché Tonia insieme a Pietro, che ormai in questo momento gioisce dal cielo, fa parte integrante di questa comunità da sempre. Quindi grazie Tonia, grazie a te, grazie a Pietro per quello che tu hai voluto fare per questa tua comunità. E poi insieme a te ringrazio anche i tuoi familiari che oggi sono loro. Ci sono parti mancanti e parti sostituite con parti nuove e poi quindi riequilibrate, proprio perché c'era questo riadattamento degli altari. In origine questo altare era, diciamo, ormai aveva accolto i semi del tempo. Prima di tutto era completamente tallato e lo vedremo. E poi le vernici, gli oli, erano ossidati. Quindi c'era avuto un annerimento dell'intera superficie pittorica. Tutte le dorature, perché questo è, diciamo, realizzato tutto in legno intagliato, dorato e laccato, quindi tutte le dorature ormai erano ricoperte da pesanti strati di vernici che il tempo aveva ossidato. Quindi in accordo con la direzione dei lavori della sovrintendenza abbiamo iniziato a fare le prime prove di pittura. Quindi abbiamo iniziato a pulire tutte quelle parti che erano ossidati e pian piano iniziava a venire fuori la, diciamo, loro... Ecco, la doratura, benissimo, la doratura originale. Anche se in alcune parti sottostante alle colonne abbiamo trovato delle cornici nuove, ovviamente adattate nel corso del tempo. Ecco, vedete? La differenza della pulitura. I fregi, tutte le parti in oro e laccate sporche e quelle pulite. Anche le cornici, la cornici che corre intorno al perimetro del quadro era non solo ossidata nelle vernici ma era stata forse anche ridipinta sicuramente per cercare di, diciamo, di correggere o di risarcire delle parti che erano deteriorate e alcune parti erano state ridipinte e comunque durante la pulitura abbiamo ritrovato il decoro originale. Ecco, qui, man mano, man mano, si procedeva alla pulitura di tutta l'intera struttura linea Anche sul dipinto abbiamo effettuato le prove di pulitura quindi, quelle parti tratteggiate che voi vedete sono le parti dove con i solventi siamo andati a rimuovere le vernici ossidate Vedete un po', era tutto le parti i basamenti delle colonne erano completamente mangiati dai talvi a volte noi non ci rendiamo conto perché il talvo mangia dentro e non si vede nulla e proprio perché erano stati ritoccati ma sicuramente anche in tempi molto più remoti non c'era la possibilità che il talvo potesse uscire fuori quindi continuando nel corso del tempo a mangiare all'interno della struttura che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo puliti abbiamo pulito tutta la parte, diciamo, spugnosa abbiamo fatto il consolidamento quindi abbiamo ridato consistenza al legno e poi le abbiamo stucate nelle parti sottostante invece dove c'erano tutte queste cornici che erano state, diciamo, messe in un secondo momento sempre in accordo con la sovrintendenza si è deciso comunque di equilibrarle a quelle antiche allora vedete lì c'è quelle cornici rosse quella è la base preparatoria che i doratori davano prima di metterci la foglia e poi noi abbiamo applicato i, diciamo, tanti pezzi di oro per poi procedere alla rifinitura ecco, vedete alcuni freggi dell'autare erano completamente mangiati dai dati e quindi noi li abbiamo puliti e dove mancavano le parti le abbiamo ricostruite ecco, questi sono alcuni particolari dell'autare dell'autare tutto pulito e poi l'autare è qui per quanto riguarda le statue diciamo che l'intervento è stato di una, diciamo, sorta di leggera pulitura perché strutturalmente le statue passavano bene quindi abbiamo fatto una disinfestazione una pulitura non c'erano le dipendure tranne per Santo Antonio sulle gote si erano divenuti nel tempo ma abbiamo rispettato abbiamo pulito dalle vernici le basi erano ricoperte di ridipinture a temera che facilmente sono state rinnovibili e quindi diciamo che l'intervento è stato più molto ma molto più semplice più delicato a differenza invece dell'autare dove poi non solo tutta la parte linea anche la parte lapidea della mensa di sotto e poi abbiamo restaurato tutto il dipinto che è stato staccato è stato rimontato sul nuovo telaglio e quindi è stato riposizionato e ancorato all'autare io penso di aver finito sia le statue di Santo Antonio e di San Francesco come anche l'altare di San Salvatore ci possiamo mettere in piedi di San Francesco Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.